Il Terzo Anello ad alta voce L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson Introduzione di Daniele Gorri Giorgio Manganelli ha fatto notare quanto siano esplicite le prime dieci, dodici righe dell'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson come cioè, dopo aver letto quel primo paragrafo noi lettori sappiamo già tutto, diceva lui sappiamo infatti il tema del racconto sappiamo dei personaggi e del protagonista sappiamo che l'avventura ha avuto buon esito visto che il protagonista è tornato vivo e può raccontarcela Di nostro potremmo aggiungere che già prima di quel primo paragrafo le due parole contenute nel titolo dicono la quintessenza dell'avventura almeno secondo i canoni della letteratura nostra della letteratura occidentale l'Isola da raggiungere dopo un viaggio rischioso ed ancora più rischiose battaglie da una parte il tesoro misterioso da conquistare dall'altra come a dire Odissea e Romanzi del Graal se non che il protagonista, e lo sappiamo subito, non sarà un esperto navigatore o un cavaliere disposto alla morte sarà un trevicenne con pochissima esperienza alla vita ed ancora minori esperienze di battaglie e del mare concepito come storia per ragazzi ed anzi in primo luogo come storia per un concreto ragazzo dodicenne Lloyd, il figlio adottivo dello scrittore l'Isola del Tesoro a differenza di tanta letteratura nata per gli adulti e quindi degradata a letteratura infantile ha semmai subito il destino opposto pubblicata da prima puntata su una rivista per adolescenti lo Young Folks tra l'81 e l'82 poi con qualche modifica in volume nell'83 l'Isola del Tesoro pur continuando la sua lunga vita di bestseller per ragazzi ha impegnato sempre più lettori adulti e anche critici raffinati attratti dalle pieghe tutt'altro che naive del libro d'altronde non correva già voce in quegli anni che il primo ministro Gladstone trascorresse la notte immerso nella lettura del romanzo dunque l'attore dell'avventura è per quasi tutto il libro anche il suo scrittore e questo possiede già di per sé una forza di immedesimazione non indifferente lui, il ragazzo in gamba come viene chiamato Jim Hawkins rimasto orfano di padre all'inizio della vicenda sarà allora inevitabilmente protagonista di un romanzo di formazione i cui maestri saranno i compagni del viaggio per mare cioè i buoni e i cattivi o se si preferisce i leali e i traditori i quali ultimi sono poi i pirati e in primo luogo il coprotagonista John Silver pirata improprio figura supremamente ambigua che riunisce in sé i ruoli dell'antagonista cioè del nemico mortale di Jim e dell'aiutante, il suo salvatore e di cui Stevenson giustamente poteva dire di Silver andavo non poco fiero ed ancora oggi devo confessare la mia ammirazione per quel suave e formidabile avventuriero nel rapporto vitale e mortale che lo lega a Jim che lega Silver a Jim c'è chi ha visto quell'amoreggiare del bambino col male che è esperienza inevitabile per la formazione della personalità di ogni personalità adulta infatti solo conoscendolo amandolo rimanendogli fedele ma insieme prendendone le distanze Jim si fa uomo e diviene Deus ex machina della storia salva la vita degli amici conduce a buon fine l'impresa realizza la giustizia in altri termini ne è a tutti gli effetti l'autore buon ascolto richiesto dal signor Triloni dal dottor Livsi e dal resto di quei gentiluomini di buttar giù per iscritto tutti i particolari relativi all'isola del tesoro dal principio alla fine non omettendo nulla salvo la posizione dell'isola e ciò unicamente perché vi è un tesoro non ancora di sepolto prendo la penna rifacendomi dall'epoca in cui mio padre teneva locanda all'insegna dell'admiral Benbow e il vecchio uomo di mare dal viso abbronzato e la cicatrice della sciabolata cominciò ad alloggiare sotto il nostro tetto rammento come fosse ieri quando giunse strascicando il passo alla porta della locanda la sua cassa da marinaio al seguito su una carriola un pezzo d'uomo alto, robusto di pelo castagno il codino catramoso penzolante sulle spalle di un bisunto abito blu le mani ruvide segnate di cicatrici con le unghie rotte e nere e quella sciabolata attraverso la gota di un bianco livido e sporco rammento che percorse con lo sguardo la baia all'intorno fischiettandosela fra sé e sé come soleva per poi scoppiare in quella vecchia canzone marina che doveva in seguito cantare così spesso quindici uomini quindici uomini sulla cassa del morto io ho 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 io ho ho è una bottiglia di rum con quella sua voce che sembrava avesse preso la cadenza alle manovre dell'argano bussò poi alla porta con un moncherino di bastone da marinaio e quando mio padre comparve ordinò bruscamente un bicchiere di rum quel bicchiere come gli fu portato se lo sorseggiò lento da intenditore indugiando nell'assaporarlo pur non cessando di guardarsi intorno le rupi e sul capo la nostra insegna una baia comoda questa disse alla fine è un'osteria magnificamente situata compagnia molta padrone e mio padre gli disse di no compagnia pochissima per sua sventura meglio così fece lui questo è l'ancoraggio che mi ci vuole ehi giovanotto gridò all'uomo che spingeva la carriola accosta e porta su il mio baule starò qui un pezzetto continuò sono un uomo alla buona rum e uova al prosciutto e tutto quanto mi occorre e quel promontorio lassù per osservare le navi al passaggio come dovete chiamarmi potete chiamarmi capitano oh capisco cosa vi sta a cuore ecco e scaraventò tre o quattro pezzi d'oro sulla soglia mi avvertirete quando non ci si sta più dentro concluse con l'alterigia di un comandante e a dire il vero per miserabile che fossero i suoi panni e grossolana la sua parlata non aveva nulla dell'aspetto di un uomo d'equipaggio aveva piuttosto quello di un secondo di bordo o di un armatore avvezzo a farsi ubbidire o picchiare sodo l'uomo della carriola ci informò che la diligenza l'aveva scaricato la mattina prima davanti al Royal George che si era ragguagliato su quanti alberghi ci fossero lungo la costa e avendo sentito parlare bene del nostro suppongo io e descriverlo come solitario aveva prescelto quello a sua residenza e fu tutto quanto ci fu dato di apprendere sul nostro ospite era un tipo taciturno tutto il giorno gironzolava per la baia o su per le lupi con un cannocchiale d'ottone tutte le sere tornava a sedersi in un angolo della sala accanto al fuoco e beveva punce al rum come niente fosse di solito non rispondeva neanche se interpellato limitandosi a una sguardata rapida e fiera e a un un bufunchiamento nel naso come un corno da segnali e noi e la gente che frequentava la locanda imparammo presto a lasciarlo in pace ogni giorno il redoce dal suo giretto si informava se qualche uomo di mare fosse passato di lì da principio ritenemmo che fosse la mancanza di compagni della sua risma a indurlo a tale domanda ma finimmo per accorgerci che era invece il desiderio di evitarli quando un uomo di mare sostava all'admiral come succedeva ogni tanto di qualcuno diretto a Bristol lungo la costa lo ispezionava attraverso le tendine della porta prima di entrare in sala e finché fosse presente si poteva essere certi di averlo muto come un pesce per me almeno non esisteva segreto a questo riguardo perché io ero in certo qual modo partecipe dei suoi allarmi un giorno preso me in disparte mi aveva promesso una moneta d'argento da quattro penni ogni primo del mese purché tenessi gli occhi aperti su un uomo di mare con una gamba sola e l'avvertissi non appena compariva non di rado veramente quando scoccava il primo del mese e io battevo cassa si limitava a rivolgermi col suo bufunchiamento nasale e fulminarmi con gli occhi però prima che la settimana finisse non mancava di venire al miglior consiglio e consegnarmi il mio quarantino d'argento ripetendomi l'ordine di stare attento all'uomo di mare con una gamba sola come ossessionasse i miei sogni quest'individuo è quasi superfluo raccontare nelle notti burrascose quando il vento scuoteva i quattro canti della nostra dimora e la risacca mogiva lungo la baia e contro gli scogli me lo vedevo davanti in mille forme e con mille diaboliche espressioni a volte la gamba era tagliata fino al ginocchio a volte fino all'anca a volte poi era un essere mostruoso che non aveva mai avuto che quella gamba sola e quella a mezzo del corpo vederlo balzare in corsa e inseguirmi scavocando si api e fossi era il peggiore degli incubi in definitiva lo pagavo ben caro quel mio quarantino di salario mensile con codeste e abominevoli immaginazioni ma quantunque fossi così terrorizzato dall'idea dell'uomo di mare con una gamba sola ero io quello che aveva meno paura del capitano stesso fra quanti lo avvicinavano certe sere beveva assai più ponce al rum di quanto il suo cervello potesse sopportare e allora a volte si metteva a cantare certe sue vecchie scelerate selvagge canzoni marine come se non ci fosse nessuno a volte invece ordinava da bere per tutti i presenti e costringeva la tremebonda brigata a prestare ascolto alle sue storie o a far coro ai suoi cantari erano quelle sue storie che più di tutto spaventavano la gente storie paurose di impiccagioni supplizzi sull'asse fortunali di mare isole delle tartarughe e gesta e località selvagge sulle coste sudamericane stando a quei racconti doveva aver trascorso la vita tra alcuni dei più scellerati uomini cui Dio abbia mai concesso di solcare i mari e il linguaggio con il quale narrava codeste sue storie scandalizzava i nostri semplici paesani almeno quanto i delitti che descriveva mio padre non faceva che dire che ci avrebbe rovinato l'albergo perché presto gli avventori avrebbero smesso di venirci per farsi tiranneggiare soverchiare e spedire a letto battendo i denti ma io credo che in realtà la sua presenza ci facesse gioco la gente sì era sul momento atterrita ma poi ripensandoci in seguito ci trovava un tal quale piacere era un'emozione eccezionale nella monotonia dell'esistenza di paese e c'era perfino un gruppetto di giovanissimi che ostentavano di ammirarlo battezzandolo autentico lupo di mare vero tricheco e simili soprannomi e sostenendo che era con quelle pellacce lì che l'Inghilterra si era resa temuta sul mare una volta sola il capitano trovò pane per i suoi denti e fu verso la fine quando il mio povero padre era già avanzato in quel deperimento che doveva condurlo alla tomba un pomeriggio sul tardi il dottor Livsi era venuto a visitare il malato e aveva accettato da mia madre uno spuntino ed era entrato in sala per farsi una pipata in attesa che la sua cavalcatura scendesse dal paese perché al vecchio Bembo non avevamo stalla io lo seguì nell'interno e rammento come mi colpì il contrasto fra quel dottore lindo e brillante con la sua parrucca candida come la neve quei vivaci occhi neri e quei suoi modi compiti e i rustici paesani ma soprattutto quel nostro lurido pesante cisposo spaventacchio di pirata che sedeva in un canto inciucchito dal rum con le braccia sul tavolo d'improvviso costui intendo il capitano cominciò a berciare quella sua eterna canzone quindici uomini quindici uomini sulla cassa del morto io ho io ho è una bottiglia di rom nei primi tempi io avevo immaginato che la cassa del morto altro non fosse che quel suo cassone da marinaio che teneva su nella stanza sul davanti e quel pensiero si era associato nei miei incubi con quello dell'uomo di mare da una gamba sola ma da un pezzo avevamo tutti smesso di prestare a quel suo canto qualsiasi attenzione quella sera non era nuovo per nessuno eccetto che per il dottor Livsi e su lui mi avvidi che non produceva gradevole impressione perché alzò la testa un istante piuttosto seccato prima di riprendere la conversazione su una nuova cura dei reumatismi col vecchio giardiniere Taylor nel frattempo il capitano era andato via più eccitandosi al suono della propria musica finché battei la mano sul tavolo che aveva davanti in un modo che tutti sapevano significava silenzio le voci si tirano all'istante tranne quella del dottor Livsi che seguitò come niente fosse nello stesso tono chiaro e cortese tirando vivacemente alla sua pipa tra una parola e l'altra il capitano lo squadrò per un poco battì di nuovo la mano lo squadrò ancora più bieco e finalmente esplose in una screanzata triviale bestemmia silenzio la giuta ai ponti avete interpellato me signore domandò il medico e quando quel ribaldo gli ebbe confermato con un altro sacramento che era proprio così e allora signor mio io non ho che un'unica cosa da dirvi replicò il dottore e cioè che se seguitate a ingozzare rum e presto il mondo sarà sbarazzato di una fetentissima carogna il furor del vecchio lupo di mare salì al colmo balzò in piedi e strasse e fece scattare un coltello a serramanico da marinaio e bilanciandolo sul palmo della mano minacciò di inchiodare il dottore alla parete questi non batte ciglio continuò a parlargli come prima al di sopra della spalla piuttosto ad alta voce in modo che tutta la stanza potesse sentirlo ma perfettamente calmo e impassibile se non rimettete in tasca all'istante quel coltello prometto sul mio onore di farvi impiccare alle prossime assise seguì tra loro un duello di sguardi ma il capitano presto avvantonò la partita abbassò il suo ripose l'arma e si rivise a sedere mugolando come un cane bastonato e adesso signor mio continuò il medico dato che son venuto a conoscenza che un tipo della vostra risma si trova nel mio distretto potete contare che lo terrò d'occhio notte e giorno non sono medico soltanto sono magistrato e se mi perviene la minima lagnanza sul vostro conto fosse anche per un mero atto di vilania come quello di stasera prenderò le debite misure per scovarvi e farvi filar via di qui uomo avvisato poco dopo la cavalcatura del dottor Livsi giunse alla porta ed egli se ne andò a cavallo ma il capitano si tenne quieto quella sera e molte altre successive Piero Baldini ha letto L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson Riduzione Giovanni Piccioni Regia Adelchi Battista Coordinamento Fabiana Carobolante Il Terzo Anello chiocciolarai.it Il Terzo Anello ad alta voce L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson Non trascorse molto tempo che si produsse il primo dei misteriosi avvenimenti che dovevano finalmente sbarazzarci del capitano Mia madre era su col babbo e io stavo apparecchiando il tavolo della colazione per il ritorno del capitano quando la porta si aprì e si introdusse un individuo che non avevo mai visto prima era un essere pallido cereo con due dita di meno alla mano sinistra e quantunque portasse un coltellaccio non aveva l'aria granché pugnace io ero sempre sul chi vive nei riguardi di gente di mare fosse a una gamba o a due e ricordo che costui mi inquietò non aveva il portamento marinaresco ma un certo sapore di mare l'aveva anche lui gli chiesi in che cosa potessi servirlo e mi rispose che avrebbe preso un room ma mentre stavo uscendo dalla stanza per prenderglielo si sedette su un tavolo e mi accennò di andargli vicino sostai dove mi trovavo col mio tovagliolo in mano vieni qui ragazzo mi disse fatti più vicino io mi accostai di un passo è quella lì la tavola per il mio amico Bill chiese ammiccando risposi che il suo amico Bill io non lo conoscevo e che quella era la tavola per una persona che alloggiava in casa nostra che noi chiamavamo il capitano beh disse lui padronissimo il mio amico Bill di farsi chiamare o no capitano ha un taglio attraverso una gota questo mio amico Bill e un piacevolissimo modo di trattare specie quando è bevuto ecco cos'ha questo mio amico Bill mettiamo tanto per dire che il tuo capitano abbia un taglio su una gota e mettiamo se ti garba che codesta gota sia alla destra benone cosa ti dicevo e adesso è qui in questa casa il mio amico Bill gli dissi che era fuori a passeggio da che parte bimbo mio da che parte ha preso e quando gli abbia additato la rupe detto che il capitano doveva rientrare quanto prima e risposto a qualche altra domanda ah ah disse lui questa gli andrà davvero a fagiolo all'amico Bill l'espressione del suo avviso nel pronunziare queste parole era tutt'altro che promettente e io avevo i miei particolari motivi per ritenere che il forestiero prendesse un abbaglio anche ammesso che intendesse quel che diceva ma non era affar mio riflettevo e d'altronde era difficile sapere come comportarsi il forestiero indugiò nel vano all'interno della porta della locanda spiando dall'angolo come il gatto all'agguato del topo una volta feci io un passo fuori nella via ma lui mi richiamò immediatamente indietro e dato che non avevo ubbidito abbastanza celermente a sua idea il più orribile mutamento si produsse su quel suo cereo viso e mi ordinò di rientrare con una bestemmia che mi fece scattare un figliolo mio andava dicendo che ti somiglia come una goccia d'acqua ed è tutto l'orgoglio della mia vita ma quel che occorre ai ragazzi è la disciplina bimbo mio disciplina se tu avessi navigato con Bill vedi non saresti rimasto lì a farti richiamare due volte no davvero questo non è mai stato il metodo di Bill né di chi navigasse con lui ma eccolo eccolo in persona il mio amico Bill con un cannocchiale sotto il braccio che Dio lo benedica è proprio lui ora a te a me non resta che tornare in sala bimbo mio e nasconderci dietro l'uscio e così fare a Bill una bella improvvisata Dio lo benedica tornò a ridire così dicendo il forestiero retrocesse con me nella sala e mi collocò dietro di sé nell'angolo in modo che restassimo entrambi nascosti dall'apertura dell'uscio io me ne stavo assai interdetto e impressionato come potete immaginare e la mia paura cresceva constatando che anche il forestiero era evidentemente impaurito disimpegnò il vanico del suo coltellaccio fece scorrere la lama nel fodero e tutto il tempo che restammo in attesa non fece che indiottire quasi avesse come si dice gli stranguglioni finalmente entrò il capitano sbatté l'uscio e senza guardare né a dritta né a manca si diresse attraverso la stanza verso la tavola della sua colazione Bill cominciò il forestiero con voce che mi parve si sforzasse di rendere forte e ardita il capitano girò sui tacchi e ci affrontò il colorito bronzino era svanito dal suo viso e perfino il naso gli si era fatto blu aveva lo sguardo di chi vedesse il demonio o magari di peggio se c'è e parola d'onore mi rincrebbe vederlo in un istante così invecchiato e disfatto su via Bill tu mi riconosci tu lo riconosci senza fallo un vecchio compagno di navigazione come me diceva il forestiero il capitano emise una specie di gemito cane nero disse e chi altri replicò lo sconosciuto prendendo abbrivio cane nero in carne e ossa venuto appositamente per far visita al suo vecchio compagno Bill all'albergo dell'admiral Bamboo Bill Bill le abbiamo pur viste noi due da quando ci rimisi questi due artigli e alzava la mano mutilata e vada fece il capitano mi hai beccato eccomi qui sputala fuori di che si tratta ora si che riconosco il mio Bill riprese cane nero ora ci dai dentro Billy e io mi farò portare un bicchiere di rum da quel caro ragazzo lì che ho preso tanto in simpatia e ci mettremo comodi se non ti dispiace e discorreremo franchi da quei vecchi camerati di bordo che siamo quando tornai col rum e li trovai uno di faccia all'altro al tavolo della colazione del capitano cane nero prossimo alla porta e seduto di sghembo in modo da avere un occhio al suo vecchio compagno di bordo e uno parve a me alla sua ritirata per parecchio tempo quantunque non mancassi di impegnarmi ad ascoltare non percepì che un chiacchiericcio sommesso ma poi le voci salirono di tono e potei cogliere una parola o due la maggior parte vestendie del capitano no no e poi no finiamola gridò una volta e poi ancora se ad essere la forca sarà la forca per tutti dico io a un tratto vi fu un'orrenda esplosione di bestemmie e altri rumori tavolo e sedia andarono a finire in mucchio seguì un cozzardilame poi un urlo di dolore un istante dopo vidi cane nero in fuga precipitosa e il capitano che lo inseguiva accanetamente entrambi con i coltellacci snudati il primo sanguinante alla spalla destra proprio sulla porta il capitano vibrò al fuggitivo un ultimo colpo tremendo che gli avrebbe certamente spaccato la schiena se non fosse stato intercettato dalla nostra grande insegna dell'admiral benbow ancora oggi potete vederne la tacca sull'orlo basso della connice questo colpo fu l'ultimo dello scontro una volta ritrovato se nella via benché ferito cane nero rivelò un paio di garretti da corridore e in mezzo minuto scomparve dietro l'angolo della collina il capitano dal canto suo rimase inevetito a fissare l'insegna poi si passò varie volte la mano sugli occhi e infine rientrò nella casa Jim chiamò Rum e nel dirlo barcollò leggermente e si riprese appoggiando una mano contro il muro siete ferito gridai io Rum ripetè devo battermela di qui Rum Rum corsi a prenderlo ma mi reggevo male in gambe dopo quanto era accaduto e ruppi un bicchiere e guastai la cannella e mentre ero ancora così impacciato udii un tonfo pesante in sala e precipitatomi dentro trovai il capitano lungo disteso sul pavimento nello stesso istante mia madre allarmata dalle grida e dalla zuffa giunse di corsa dalle scale per aiutarmi tra tutti e due gli sollevamo la testa respirava molto rumorosamente e affannosamente ma aveva gli occhi chiusi e il viso di un orribile colore fu un gran sollievo per noi quando la porta si aprì ed entrò il dottor Livsi in visita da mio padre oh dottore gridammo che cosa si può fare dove è ferito ferito un accidente disse il dottore ferito quanto me e voi ha avuto un colpo tale quale gliel'avevo predetto e adesso signora Hawkins salite subito da vostro marito e se è possibile non gli raccontate nulla dal canto mio devo far del mio meglio per salvare la vita tre volte spregievole di questo individuo e il nostro Jim mi porterà una catinella quando ritornai con la catinella il dottore aveva già rimboccato la manica del capitano e denudato il suo grosso braccio muscoloso era tatuato in parecchi punti ecco la fortuna vento in poppa Billy Bones se ne frega era molto chiaramente tracciato e ben leggibile sull'avambraccio e sopra vicino alla spalla vi era lo schizzo di una furca con l'impiccato penzoloni reso a mio giudizio con molto spirito profetico disse il dottore toccando quella figura col dito e adesso messer Billy Bones se questo è il vostro nome daremo un'occhiatina al colore del vostro sangue Jim hai paura del sangue non signore risposio bene allora seguitò tu tieni la catinella dopodiché prese il suo bisturi e aprì una vena bisogna cavarli parecchio sangue prima che il capitano riaprisse gli occhi e girasse attorno a uno sguardo annebbiato riconobbe per primo il dottore con un'inconfondibile smorfia di contrarietà poi il suo sguardo cadde su di me e apparve confortato ma subito mutò colore e tentò di sollevarsi gridando dove è cane nero? non c'è nessun cane nero qui disse il dottore salvo quello che vi sta alle costole avete seguitato a ingozzare rum e vi ha preso un colpo proprio come vi avevo predetto io e molto a malincuore vi ho riacciuffato all'ultimo momento ora però signor Bones quello non è il mio nome interruppe il capitano per quel che me ne importa replicò il dottore è il nome di un vecchio filibustiere di mia conoscenza e io vi chiamerò così per amore di brevità e quel che ho da dirvi eccovelo un bicchiere di rum non vi ammazzerà certo ma se prendete il primo seguirà il secondo e il terzo e scommetto la mia parrucca che se non tagliate corto creperete la capite questa? creperete e ve ne andrete al creatore e ora su fate uno sforzo vi aiuterò a mettervi a letto per ora tra tutti e due a gran fatica riuscimo a hissarlo su per le scale e ad agiarlo sul letto dove la testa gli piombò sul guanciale come se stesse per svenire e ora mettetevelo bene in zucca mi sgravo la coscienza rum per voi significa morte verso mezzogiorno mi fermai alla porta del capitano con delle bibite rinfrescanti e delle medicine era pressa poco nelle stesse condizioni in cui l'avevamo lasciato solo un po' più sollevato e pareva insieme debole ed eccitato Jim disse tu sei l'unico qui che valga qualcosa e sai che con te sono sempre stato buono non c'è stato mese che non t'abbia dato i tuoi quattro penni d'argento tutti tuoi e ora vedi amico son più di là che di qua io e da tutti abbandonato dimmi Jim me lo porti vero un goccetto di rum ora non me lo neghi amico vero il dottore cominciai ma lui mi tagliò le parole in bocca per mandare un accidente al dottore con voce flebile ma irosa ve ne porterò un bicchiere ma niente di più quando glielo portai lo afferrò avidamente e lo traganò d'un fiato esclamò ora va un po' meglio naturale e ora amico adesso dottore ha per caso detto quanto tempo dovrò starmene disteso in questa decrepita cuccia una settimana almeno risposi per mille fulmini gridò una settimana non posso nel frattempo mi avranno bollato col marchio nero quei cialtroni saranno già sulle mie tracce in questo stesso maledetto minuto cialtroni che non hanno saputo custodire quello che possedevano e vorrebbero arraffare la roba altrui è comportamento da marinai questo vorrei sapere ma io ho l'anima del risparmiatore non li ho mai sciupati i miei denari io e nemmeno li ho persi e gliela farò di nuovo io non ho paura di loro io spiegherò un altro terza ruolo e li lascerò di nuovo in coda Jim disse alla fine quel marinaio di oggi l'hai visto cane nero ah cane nero disse lui è un cattivo soggetto sai ma ce ne sono di peggio tra quelli che l'hanno mandato senti se non riesco a battermela in nessun modo e mi appioppano il marchio nero ricordati che quel che preme a loro è il mio vecchio cassone da marinaio dunque tu mettiti a cavallo ci sai stare vero bene allora mettiti a cavallo e vai ma sì che voglio vai vai da quella vecchia sciabatta di dottore e di chiamare a raccolta più gente che può magistrati e via dicendo e ne farà una retata di tutti qui all'admiral Bembo tutta la vecchia ciurba di Flint dal marinaio al mozzo tutto quel che ne rimane ero il secondo di bordo io secondo di bordo del vecchio Flint e sono l'unico che conosca il luogo me lo indicò a savanna lui stesso quando era murente come fossi io ora vedi ma non fiatare non fiatare finché non mi bollano col marchio nero o finché non rivedi quel cane nero o l'uomo di mare con una gamba sola Jim soprattutto quello ma che cos'è questo marchio nero capitano è un avvertimento figliuolo te lo spiegherò meglio se arrivassero figli tu fa la buona guardia Jim e faremo a mezzo noi due parola d'onore che cosa avrei fatto se tutto fosse andato regolarmente non lo so probabilmente avrei raccontato tutta la storia al dottore perché ero ossessionato dal dubbio mortale che il capitano potesse pentirsi della sua confessione e liberarsi di me ma così come andarono le cose il mio povero padre espirò quella sera stessa quasi all'improvviso e ciò relegò da parte ogni altro pensiero il nostro naturale cordoglio le visite dei vicini i preparativi del funerale e tutto il lavoro della locanda da mandare avanti lo stesso mi tennero talmente occupato che abbia appena il tempo di ripensare al capitano e meno che mai alle mie paure il capitano era debole e a dire il vero sembrava si indebolisse ogni giorno di più anziché riprendere le forze si trascinava su e giù per le scale andava dalla sala alla mescita e viceversa e qualche volta metteva il naso fuori dell'uscio per annusare il mare appoggiandosi ai muri per camminare con il respiro fitto e greve di chi salga un'erta scoscesa non si rivolse mai più a me in particolare ed è mia convinzione che si fosse più che scordato le sue confidenze ma il suo umore era irritabile e per quanto glielo permetteva la sua debolezza fisica più violento che mai ora aveva la pericolosa abitudine quando era ubriaco di sfoderare il suo coltellaccio e collocarlo sul tavolo a portata di mano ma con tutto ciò si curava meno della gente sembrava chiuso nei suoi stessi pensieri e piuttosto assente una volta ad esempio con nostra somma sorpresa in tono un'aria diversa una specie di lustico canto d'amore che dovrò aver appreso in gioventù prima di mettersi a navigare piero baldini a letto l'isola del tesoro di robert luis stevenson riduzione giovanni piccioni regia adelti battista coordinamento fabiana carobolante il terzo anello chiocciolarai.it il terzo anello ad alta voce l'isola del tesoro di robert luis stevenson così andarono le cose finché il giorno dopo il funerale circa le tre di un gelido tetro pomeriggio nebbioso mentre mi trattenevo un momento sulla soglia immerso in neri pensieri su mio padre scorsi un viandante avvicinarsi lento sulla via doveva essere totalmente cieco perché picchiava davanti a sé con un bastone e portava una mascherina verde sugli occhi e sul naso era incurvato fosse dall'età o dagli stenti e indossava un'ampia vecchia rappezzata gabbana da marinaio con un cappuccio che gli dava un aspetto deforme non avevo mai visto in vita mia più paurosa figura si fermò a poca distanza dalla locanda e alzando la voce con una bizzarra cantilena interrogò il vuoto che aveva davanti non c'è un'anima buona che voglia dire al povero cechino che ha perso la preziosa vista degli occhi difendendo la sua amata patria dio benedica re giorgio in che punto di questo paese si sia venuto a trovare siete all'admiral bembo baia del montenero bravo uomo feci io sento una voce riprese una voce fresca non vorreste porgermi la mano e guidarmi dentro mio generoso giovane amico io stesi la mano e quell'orrido mellifo figuro senza occhi l'afferrò di colpo come una morsa ne fui così spaventato che cercai di svincolarmi ma il cieco mi tirò vicino a sé con una semplice stretta di mano e ora ragazzo venavi dentro dal capitano signore disse io parola dolore che non oso soghignò lui si tratta di questo menami dentro all'istante o ti fracasso il braccio e me lo torse mentre parlava in modo da strapparmi un urlo signore continuai io lo dicevo per voi il capitano non è più quello di prima tien sempre un coltellaccio sguainato un altro signore basta così e filare tagliò corto lui e io non avevo mai sentito voce più ghiaccia spietata e odiosa di quella di quel cieco il cieco si attaccava a me stringendomi nella sua morsa d'acciaio e appoggiandomi addosso più del suo peso che non potessi sopportare conducimi dritto a lui e quando sarò in vista grida forte Bill ecco un amico per voi se non lo fai questo ti farò io e accompagnò il suo dire con un pizzicotto tale che credetti svenire messo fra l'uscio e il muro ero così disfatto dal terrore del cieco che dimenticai il mio terrore del capitano e nell'aprire la porta pronunciai le parole impostemi con voce tremebonda il povero capitano alzò gli occhi e alla prima occhiata i fumi del rum svanirono lasciandolo disintossicato a fissarci l'espressione del suo viso non fu tanto di terrore quanto di mortale stanchezza fece l'atto di muoversi ma non credo gli rimanesse abbastanza forza fisica e ora Bill resta dove ti trovi disse il mendicante se non posso vedere quando si muove un dito lo sento gli affari sono affari porgi la mano sinistra e tu piccolo prendi con esta mano per il polso e accostala alla mia destra gli ubbidimmo entrambi alla lettera e io gli vidi passare qualcosa dal cavo della mano in cui teneva il bastone nel palmo di quella del capitano che richiuse istantaneamente anche questa è fatta disse il cieco e con tali parole abbandonò la presa e con incredibile precisione e sveltezza scivolò fuori della sala nella via donde mentre ero ancora immobile mi giunse il picchiettio del suo bastone che man mano si allontanava passò un po' di tempo prima che io e il capitano potessimo riaverci ma alla fine e quasi nel preciso istante io lasciai libero il polso che ancora stringevo e lui ritirò la sua mano e dette una sbirciata alla palma alle dieci gridò abbiamo sei ore gliela facciamo ancora i balzò in piedi ma nell'alzarsi barcollò si portò la mano alla gola rimase in bilico un attimo e poi con un rantolo strano stramazzò lungo disteso a faccia avanti sul pavimento accorsi a lui sull'istante chiamando mia madre ma ogni sollecitudine era vana il capitano era rimasto fulminato secco da un colpo strano a capirsi perché quell'uomo a me non era mai certamente piaciuto per quanto da ultimo avessi preso a compatirlo ma non appena vidi che era morto ruppi in un pianto dirotto era la seconda morte cui assistevo e il dolore della prima mi era ancora fresco nel cuore non tardai oltre a raccontare a mia madre tutto quanto sapevo si imponeva una decisione immediata e alla fine ci venne in mente di uscire insieme e cercare aiuto nel villaggio vicino detto fatto a caposcoperto come eravamo ci lanciamo subito fuori nell'oscurità crescente e nella nebbia gelata il villaggio si trovava a poche centinaia di yard sebbene nascosto alla vista sull'altro versante della vaia contigua e ciò che mi rincuorava assai era in direzione opposta a quella adonde era comparso il cieco e dove era probabilmente tornato non rimanemmo che pochi minuti per via e quantunque ogni tanto ci fermassimo per abbracciarci in un l'altro e tendere l'orecchio ma non si udiva alcun rumore insolito nulla tranne il leggero sciacquio della maletta e il gracchiare dei corvi nel bosco era ormai l'ora in cui si accendono le candele quando entramo nel villaggio e non potrò mai scordare quanto mi riconfortò la vista di quei bagliori dietro porte e finestre ma questo risultò poi era tutto l'aiuto che potessimo aspettarci in quei paraggi perché si potrebbe pensare che quell'uomini avrebbero dovuto vergognarsi di se stessi non ci fu uno che consentisse a ritornare con noi all'Admiral Bembo più insistevamo sui nostri guai e più quelli uomini donne e fanciulli si stringevano alla protezione delle proprie case il nome del capitano Flint se era nuovo per me era più che noto ad alcuni di loro e si tirava dietro una sequela di spaventi alcuni che si erano trovati a lavoro nei campi sul lato opposto a quello dell'Admiral Bembo rammentavano in più di aver visto parecchi forestieri per la via e di essersela squagliata ritenendoli contrabbandieri e almeno uno aveva visto un piccolo trabaccolo in quella che chiamavano la tana di Kit per questo bastava che un individuo qualsiasi fosse stato compagno del capitano per incuter loro un mortale terrore conclusione di tutto fu che riuscimmo a trovare alcuni disposti a correre a cavallo dal dottor Livsi che si trovava in direzione opposta ma nessuno che volesse aiutarci a difendere la locanda dicono che la virtà sia contagiosa ma d'altra parte la disputa ispira coraggio e così quando ciascuno ebbe detto la sua mia madre tenne loro un discorso non intendeva lei perdere del denaro che apparteneva a suo figlio orfano se nessuno di quanti siete osa oseremo Jim e io torneremo indietro per la stessa via da cui siamo venuti e sentite i ringraziamenti a voi altri o maccioni dal cuor di coniglio l'apriremo noi quella cassa dove secostarci la vita e vi sarò grata signora Crosley se ci presterete quella borsa per riporci il denaro che ci è dovuto manco a dirlo io dichiarai che avrei seguito mia madre e manco a dirlo tutti riprovarono ad alta voce la nostra temerarietà ma nemmeno allora ci fu un cane disposto ad accompagnarci tutto il loro aiuto si ridusse a dare a me una pistola carica nel caso fossimo stati aggrediti e a promettere di tenere i cavalli sellati in caso fossimo inseguiti al ritorno mentre intanto un ragazzo sarebbe corso a cavallo dal dottore a chiedere l'intervento di rinforzi armati il cuore mi batteva a precipizio quando ci incamminammo nella notte gelata verso la pericolosa avventura cominciava a levarsi la luna piena che traspariva rossa attraverso i veli superiori della nebbia e ciò accresceva la nostra fretta perché era evidente che quando saremmo stati sulla via del ritorno avrebbe fatto chiaro e la nostra partenza sarebbe stata esposta a ogni sguardo ratti e silenziosi scivolando lungo le siepi senza vedere né udire nulla che accrescesse i nostri terrori finché con nostro grande sollievo la porta dell'admiral Bembo si richiuse dietro di noi io feci subito scorrere il paletto e rimanemmo ansanti per un momento nel buio soli nella casa col cadavere del capitano poi mia madre prese una candela nella dispensa e tenendoci per mano cino il trammo nella sala il cadavere giaceva come l'avevamo lasciato sulla schiena con gli occhi sbarrati e un braccio disteso tira le tende Jim mi svegliò mia madre possono venire a spiarci dall'esterno e adesso aggiunse quando ebbe eseguito dobbiamo trovare la chiave su costui e non so chi di noi due se la sentirà di toccarlo e uscì in una specie di singhiozzo pronunciando queste parole mi buttai immediatamente in ginocchio io sul pavimento accanto alla sua mano vi era un piccolo tondo di carta annerito da un lato nessun dubbio che non fosse quello il marchio nero raccoltolo ci trovai scritto dall'altro lato in ottima e chiara scrittura questo breve messaggio avete fino alle dieci di stasera aveva fino alle dieci mamma disse io e proprio mentre lo dicevo il nostro vecchio pendolo cominciò a batterle ore questo rumore inatteso ci rimescolò tutti e due ma portava una buona nuova perché non erano che le sei su Jim disse lei questa chiave frugai le tasche una dopo l'altra pochi spiccioli un ditale un po' di refe e grossi aghi una treccia di tabacco morsicata il suo coltello a roncola una bussola tascabile e un acciarino ecco tutto quanto contenevano e io cominciai a disperare forse ce l'ha al collo suggerì mia madre superando una forte ripugnanza lacerai al colletto la camicia e proprio lì attaccata a un pezzo di spago incatramato che tagliai col suo stesso coltello trovammo la chiave invalidanziti da questo successo ci affrettammo senza indugio per le scale alla stanzetta dove aveva per tanto tempo dormito e dove era rimasta la cassa dal giorno del suo arrivo all'aspetto esteriore essa non differiva dalle usuali casse da marinaio con la sua iniziale B impressa a fuoco sul coperchio e quegli spigoli ammaccati e scheggiati dal lungo e grossolano uso dammi la chiave disse mia madre e quantunque la toppa fosse assai dura in un batter d'occhio la fece scattare e alzò il coperchio un forte affluore di tabacco e catrame si spregionò dall'interno ma altro non ci fu dato vedere in cima tranne un abito completo di ottimo panno accuratamente spazzolato e piegato non è mai stato portato osservò mia madre al di sotto di quello cominciava il guazzabuglio un quadrante una gavetta di latta varie trecce di tabacco due coppie di bellissime pistole un lingotto d'argento un antico orologio spagnolo e parecchie cianfrusaglie di scarso valore la più parte di fabbricazione straniera un paio di bussole montate in ottone e cinque o sei bizzarre conchiglie delle indie occidentali mi sono spesso ritrovato a chiedermi come mai si fosse portato dietro quelle conchiglie per tutta quella sua vagabonda e perseguitata esistenza intanto non avevamo trovato roba di valore eccetto l'argento e quelle vazzecole nessuna delle quali rispondeva alle nostre necessità sotto c'era un vecchio impremeabile da marinaio scolorito dalla salsedine marina in chissà quante taverne di porti di mare mia madre lo mise da parte con impazienza ed eccoti davanti a noi ultime cose racchiuse nella cassa un pacchetto avvolto in tela cerata che sembrava contenesse delle carte e un sacchetto di stoffa che diede al tocco il tintinnare dell'oro mostrerò a codeste canaglie che sono una donna onesta disse mia madre prenderò quel che mi spetta e non un centesimo di più porgimi la borsa della signora Crossley e cominciò a contare l'importo del debito del capitano passandolo dal sacchetto del marinaio alla borsa che io le porgevo quando fumo a metà di questa operazione le posai all'improvviso la mano sul braccio perché avevo inteso nel silenzio dell'aria gelata un rumore che mi aveva fatto venire il cuore in gola il picchiettio del bastone del cieco sulla strada ghiacciata andava avvicinandosi sempre più mentre noi immobili trattenevamo il respiro poi ci fu un colpo secco alla porta della locanda e allora potevamo sentir girare la maniglia e stridere il chiavestello mentre quel miserabile tentava di entrare al che seguì un lungo silenzio tanto dentro che fuori alla fine il picchiettio ricominciò e con nostra indescrivibile gioia e riconoscenza andò affievolendosi finché si spense a poco a poco in lontananza mamma disse io prendi ogni cosa e figliamo porto via quel che ho preso disse mia madre balzando in piedi ed io prenderò questo per far conto pari soggiunsi impadronendovi del pacchetto di incerato non eravamo partiti un secondo troppo presto la nebbia andava rapidamente dileguandosi già la luna splendeva nitida sulle alture da ambo i lati solo proprio in fondo al burrone intorno alla porta della taverna un leggero strato di bruma galleggiava intatto a coprire i primi passi della nostra fuga molto prima che a metà strada un po' oltre l'avallamento della collina bisognava uscire allo scoperto alla luce della luna e tanto non bastava perché già lo scalpiccio di numerosi passi precipitati ci giungeva agli orecchi e quando ci voltavamo a guardare nella loro direzione una luce sballottata qua e là che pure rapidamente avanzava ci avvertì che uno dei nuovi venuti portava una lanterna figlio caro disse mia madre a un tratto prendi il denaro e fuggi io mi sento svenire questa era certamente la fine per tutti e due pensai io quanto maledissi la vigliaccheria dei vicini quanto rimproverai alla mia povera madre la sua onestà e la sua avarizia quella sua valdanza passata e la sua debolezza attuale per fortuna eravamo proprio al ponticello e io la sostenni vacillante com'era fino alla riva dell'argine dove emettendo un sospiro si lasciò cadere sulla mia spalla non so come trovassi la forza di farlo e temo di averlo fatto brutalmente ma riuscii a trascinarla giù dall'argine e un po' sotto l'arcata più oltre non potei portarla perché il ponte era troppo basso per permettermi di far altro che strisciarci sotto così ci toccò rimanere lì mia madre quasi completamente in vista ed entrambi a portata di voce dalla locanda la mia curiosità fu in certo qual modo più forte della mia paura perché non mi riuscì di restare dove mi trovavo ma strisciai di nuovo verso l'argine dove riparando il capo dietro un cespuglio di ginestre potevo dominare la strada davanti alla nostra porta mi ero appena appostato che cominciarono a giungere i miei nemici sette o d'otto almeno correndo di gran carriera disordinatamente lungo la via preceduti di qualche passo dall'uomo con la lanterna tre correvano insieme tenendosi per mano e potei ravvisare in quello di mezzo anche attraverso la nebbia il mendicante cieco un istante dopo la sua voce mi provò che avevo colto nel segno giù la porta urlava signor sì signor sì e che già erano due o tre e dettero un gran colpo contro l'admiral Bembo rischiarati dal portatore di lanterna ma poi li vidi sostare e sentì i loro discorsi scendere di tono quasi sorpresi di aver trovato la porta aperta la sosta però fu breve perché il cieco ripetè nuovamente i suoi comandi la sua voce risuonava più forte e più aspra come se ardesse di impazienza e di rabbia dentro 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 urlava maledicendo il loro inducio quattro o cinque obbedirono all'istante mentre due rimanevano nella via con quel formidabile mendico ci fu un momento d'arresto poi un grido di sorpresa poi una voce strillò dall'interno Vile è morto ma il cieco riprese a sacramentare contro la loro fiacca qualcuno lo frughi i bighelloni scansa fatiche e gli altri su alla cassa strillava potei udire i loro passi rumoreggiare su per le nostre vecchie scale tanto da far tremare la casa immediatamente dopo sorsero nuove voci di stupore la finestra della camera del capitano fu spalancata con fracasso e tintinnar di vetri infranti e un uomo si affacciò nel chiaro di luna testa e spalle rivolgendosi al mendico cieco nella strada più gridò ci han preceduti qualcuno ha buttato all'aria la cassa non c'è rugì più il denaro c'è il cieco mandò un accidente al denaro la carta di flint voglio dire non riusciamo a trovarla da nessuna parte replicò l'uomo ehi voi altri al pian terreno non c'è addosso a Bill gridò di nuovo il cieco a questo punto un altro della brigata probabilmente quello che era rimasto giù per frugare il corpo del capitano si fece sulla soglia della locanda Bill è già stato frugato disse non c'è nulla ah è la gente dell'albergo è quel ragazzo gli avessi cavati gli occhi gridò il cieco più erano qui un minuto fa avevano messo il paletto alla porta quando ho provato io sparpagliatevi ragazzi e scovatemi lì eh non c'è dubbio hanno lasciato qui la candela disse quello dalla finestra cercate cercate e scovatemi lì buttate all'aria la casa piero baldini ha letto l'isola del tesoro di robert luis stevenson riduzione giovanni piccioni regia adelti battista coordinamento fabiana carobolante il terzo anello chiocciolarai punto it il terzo anello ad alta voce l'isola del tesoro di robert luis stevenson lo stesso sibilo che aveva allarmato me e mia madre mentre contavamo i denari del capitano si fece riudire ancor più chiaramente attraverso la notte questa volta ripetuto due volte io avevo pensato che fosse un sorrogato di segnale di tromba del cieco per ordinare alla sua ciurma l'assalto ma adesso scoprì che proveniva dalle falde della collina in direzione del villaggio e a giudicare dall'effetto sui filibustieri era un segnale per metterli in guardia contro un pericolo imminente di nuovo dirk osservò uno e due volte è il caso di batterse la compagni batterse la è vigliacconi gridò più quel dirk non è mai stato altro che un fesso e un vigliacco non dategli retta devono essere da queste parti non possono essere lontani ci siete addosso sparpagliatevi e cercateli figli di cani accidenti a me se soltanto avessi i miei occhi avete sotto mano un tesoro scimuliti che non siete altro e ve ne state con le mani in mano sareste ricchi come una babbi se lo trovaste e sapete che c'è e ve ne state lì a far flanella non c'è stato uno uno che osasse affrontare Bill se non io un cieco e dovrò perdere la mia fortuna per colpa vostra dovrò continuare a fare il povero ciechino che striscia per scroccare una bevuta mentre potrei viaggiare in carrozza se aveste un briciolo di coraggio riuscireste ancora a scovarli va all'inferno più che abbiamo i dobloni borbottò uno devono averla nascosta quella maledetta roba disse un altro tienti le sterline più e smettila di sbraitare sbraitare era il termine esatto tanto era montato in vestia più a quelle obiezioni alla fine la collera lo soverchiotta al punto che cominciò a menar botte a casaccio a destra e sinistra e il suo bastone colpì più di uno di quegli uomini questa zuffa fu la nostra salvezza perché mentre continuava a infuriare un altro rumore giunse dalla cima della collina in direzione del villaggio lo scalpitio di cavalli al galoppo quasi nello stesso istante il lampo e la detonazione di una pistola partirono dal lato della siepe quello era evidentemente l'estremo segnale di pericolo perché i filibustieri fecero un immediato voltafaccia e se la dettero a gambe disperdendosi in ogni direzione chi verso il mare giù per la baia chi di traverso su per la collina cosicché in mezzo minuto non ne restò salvo più la benché minima traccia se l'avessero se l'avessero abbandonato vedete in vecchio più compagni il vostro vecchio più proprio in quel mentre il rumore della cavalcatura oltrepassò il crinale e quattro o cinque cavalieri comparvero al chiarore della luna e si lanciarono al galoppo giù per il pendio allora più si avvide del suo errore si voltò con un urlo e corse dritto verso il fossato ruzzolandoci dentro in un attimo si rialzò e disorientato com'era fece un altro balzo che lo portò proprio sotto il più vicino dei cavalli sopraggiungenti il cavaliere tentò di salvarlo ma in vano più cadde con un urlo che salì alto nella notte e i quattro zoccoli lo calpestarono e lo buttarono da parte oltrepassandolo ricadde su un fianco poi si accasciò mollemente Bocconi e non si mosse più io balzai in piedi e detti una voce ai cavalieri essi stavano già arrestandosi ad ogni buon conto inorriditi dal caso e io subito li riconobbi uno di loro che si teneva in coda dietro agli altri era il ragazzo partito dal villaggio in cerca del dottor Livsi gli altri erano doganieri che aveva incontrato per via coi quali aveva avuto l'accortezza di tornare indietro immediatamente qualche voce sul bastimento della tana di Kit era pervenuta all'ispettore Dance e lo aveva indirizzato quella sera stessa dalle nostre parti e fu in virtù di tale circostanza che mia madre ed io scampammo alla morte più era morto morto stecchito quanto a mia madre non appena trasportata su al villaggio bastarono un po' di acqua fresca e di sali per farla rinvenire e per lo spavento provato non se la cavò poi troppo male quantunque continuasse ancora a rimpiangere di non aver regolato i suoi conti frattanto l'ispettore era filato a gran galoppo alla tana di Kit ma i suoi uomini erano stati costretti a smontare e scendere a tentoni giù per il fosso conducendo e a volte sorreggendo i propri cavalli per il continuo timore di imboscate cosicché non può meravigliare se quando giunsero in fondo alla tana il bastimento aveva già levato l'ancora quantunque fosse ancora assai vicino l'ispettore lo chiamò una voce gli replicò avvertendolo di tenersi fuori del lume di luna se non voleva buscarsi del piombo e al contempo una pallottola fischiò rasente il suo braccio poco dopo il vascello doppiò il promontorio e scomparve il signor Danse rimase lì per dirla con parole sue come un pesce fuor d'acqua e tutto quanto poteva fare fu di spedire un uomo ad avvertire il cutter della dogana ritornai con lui all'admiral Bembo e non si può immaginare in quale stato di rovinio trovassi la casa il signor Danse non riusciva a capacitarsi della cosa il denaro l'han preso dici tu e allora Hawkins che cosa diavolo cercavano ancora altro denaro forse no signore denaro no non credo in verità signore credo di averlo in tasca io quel che cercavano e per dir la schietta desidererei metterlo al sicuro certo più che giusto ragazzo mio lo prenderò in consegna io se credi io pensavo veramente che il dottor Livzi cominciai perfettamente interruppe lui con convinzione perfettamente un gentiluomo e magistrato e ora che ci penso sarà meglio che arrivi fin là anch'io e faccia il mio rapporto a lui e al cavaliere Mastropiù è morto dopo tutto non che lo rimpianga ma è morto come vedi e la gente potrebbe usarlo come pretesto per dare addosso a un ufficiale della dogana di sua maestà ecco che cosa ti propongo Hawkins se ti va ti prendo con me cavalcammo rapidi per tutto il percorso e non ci arrestammo che alla porta del dottor Livzi la facciata della casa era totalmente buia il signor Dance mi ordinò di saltare a terra e bussare Doggar mi porse una staffa per smontare la porta ci fu aperta quasi subito dalla cameriera c'è il dottor Livzi? chiesi mi rispose di no che tornato a casa nel pomeriggio era poi salito al castello per pranzarci e passar la serata con il cavaliere e allora andiamo là ragazzi disse il signor Dance arrivati al castello del cavaliere il servo ci guidò lungo un corridoio ricoperto di tappeti all'estremità del quale ci fece entrare in una vasta biblioteca piena di scaffali su cui erano collocati dei busti dove trovammo il cavaliere e il dottor Livzi seduti pipa alla mano di fronte a un bel fuoco non avevo mai visto il cavaliere così da vicino era un pezzo d'uomo alto quasi sei piedi e largo in proporzione dalla fisionomia brusca vivace e rude tutta arrossata e solcata di rughe dai lunghi viaggi le sue sopracciglia nerissime si muovevano rapide e ciò gli dava un'espressione un po' irritabile non cattiva direi ma risentita e altezzosa fatevi avanti signor Dance disse con molta maestà e con discendenza buonasera Dance disse il dottore con un cenno e buonasera a te amico Jim qual buon vento ti porta qui l'ispettore si mise rigido sull'attenti e fece il suo rapporto quasi recitasse una lezione molto prima che il racconto finisse il signor Triloni ricorderete che era questo il nome del cavaliere era balzato dalla sedia e misurava a gran passi la sala e il dottore quasi per ascoltar meglio si era tolto la parrucca incipriata e se ne stava lì con l'aspetto più buffo del mondo con la sua capigliatura autentica nera rapata a zero finalmente il signor Dance terminò il suo rapporto signor Dance disse il cavaliere siete un magnifico collaboratore e quanto l'aver pestato quel perfido atroce scellerato lo considero un atto meritorio come come schiacciare uno scarafaggio questo nostro Jim poi è un asso di briscola quel che vedo Hawkins vuoi suonare con questo campanello il signor Dance vorrà gradire un boccale di birra dunque Jim disse il dottore l'hai nelle mani tu allora quel che stavamo cercando eccolo signore disse io e gli consegnai il pacchetto di tela cerata il dottore lo rigirò nelle sue mani come se le dita gli bruciassero dalla voglia di aprirlo ma invece di aprirlo se lo mise tranquillamente nella tasca della giacca cavaliere disse quando Dance avrà bevuto la sua birra gli toccherà evidentemente di rientrare al servizio di sua maestà ma io avrei intenzione di trattenere Jim Hawkins qui e farlo dormire a casa mia e col vostro permesso proporrei di fargli portare il pasticcio freddo e dargli da cena come volete Livsy disse il cavaliere Hawkins si è guadagnato ben altro che un pasticcio freddo dunque cavaliere disse il dottore dunque Livsy disse il cavaliere nel medesimo istante uno alla volta uno alla volta uscì ridendo il dottore immagino che avrete sentito parlare di codesto flint sentito parlare lo chiamate sentirne parlare era il filibustiere più sanguinario che soltasse i mari barba nera al confronto era era un innocentino gli spagnoli ne avevano una tale paura che vi confesso caro signore di essermi a volte sentito orgoglioso che fosse un inglese coi miei occhi ho visto le sue vele a largo di Trinidad e quel vigliacone di un figlio di ubriaconi con il quale navigavo io rientrò in porto rientrò in porto signor mio a Port of Spain beh ne ho sentito parlare anch'io in Inghilterra disse il dottore ma il punto capitale è questo aveva o non aveva denari denari gridò il cavaliere non avete sentito il racconto di che altro andavano in cerca quei ribaldi se non di denari che altro stava loro a cuore se non i denari perché cos'altro metterebbero a repentaglio le loro carcasse miserabili se non per denari questo lo sapremo presto replicò il dottore ma voi siete così esageratamente infervorato che non riesco a dire una parola quel che ho bisogno di sapere è questo supposto che io abbia qui in tasca qualche indizio su dove Flinte abbia sotterrato il suo tesoro ritenete che possa essere considerevole codesto tesoro considerevole signore gridò il cavaliere considerevole tanto che che se possedete l'indizio cui alludete io volo ad armare un bastimento nel porto di Bristol mi tiro dietro voi e Hawkins e faccio saltar fuori codesto tesoro dovessi impiegare un anno a scovarlo benissimo disse il dottore e allora col consenso di Jim apriremo il pacchetto egli lo pose davanti sul tavolo l'involto era cucito e il dottore dovette tirar fuori l'astuccio dei ferri e tagliare i punti con le forbici da chirurgo conteneva due cose un tacuino e un plico sigillato cominciamo a esaminare il tacuino osservò il dottore sulla prima pagina non c'era che qualche sgorbio come potrebbe farne chiunque si trovasse la penna in mano e non avesse altro da fare o volesse esercitarsi uno era identico al tatuaggio Billy Bones se ne frega seguivano un signor William Bones pilota mai più rum la buscata a largo di Pankey e qualche altro sgorbio per lo più vocaboli isolati e incomprensibili di qui non c'è da tirar fuori un gran che disse il dottor Livsi continuando a sfogliare non ci capisco un'acca disse il dottor Livsi ma se è chiaro quanto la luce del sole gridò il cavaliere questo è il libro dei conti di quel manigoldo le crocette rappresentano i nomi dei bastimenti che affondavano o delle città che mettevano a sacco le somme sono la parte che toccava a quel furfante il quale quando teveva un equivoco aggiungeva come vedete qualche precisazione a largo di Caracas deve trattarsi di qualche disgraziato veliero abbordato a largo di quella costa ed io abbia misericordia dei poveretti che le equipaggiavano sepolti in mare in quei giorni lontani perfetto disse il dottore vedete cosa vuol dire aver navigato perfetto e la somma cresce vedete man mano che sale di grado c'era poco più nel libretto salvo la posizione di alcune località registrate negli ultimi fogli bianchi e una tavola per ragguagliare la moneta inglese francese o spagnola a un valore comune che volpone gridò il dottore non era tipo da farsi mettere in mezzo lui e ora disse il cavaliere all'altro la carta era stata sigillata in vari punti con un vitale a uso sigillo forse quello stesso che avevo trovato in tasca del capitano il dottore rimosse i sigilli con gran cura e ne venne fuori la mappa di un'isola latitudine e longitudine fondali nomi di monti vai e stretti e ogni altro particolare necessario a condurre una nave a un sicuro ancoraggio sulle sue coste l'isola aveva circa nove miglia di lunghezza e cinque di larghezza forma si sarebbe detto di un grosso drago rampante due porti ben riparati e una montagna centrale segnata il cannocchiale ci erano parecchie aggiunte di data posteriore ma più in vista di tutte tre crocette in inchiostro rosso due nella parte settentrionale dell'isola una in quella di sud ovest e in più accanto a quest'ultima in minuta e chiara scrittura molto diversa dai caratteri zoppicanti del capitano queste parole qui il grosso del tesoro sul retro la stessa mano aveva scritto questi ulteriori racquagli grande albero spalla del cannocchiale direzione nord nord est quarta a nord isola dello scheletro est sud est quarta ad est dieci piedi il lingotto d'argento è nel nascondiglio nord lo si può trovare per mezzo dell'inclinazione del poggio di levante dieci braccia a sud della rupe nera che lo sovrasta le armi sono facilmente reperibili nella collina di sabbia punta nord del capo dello stretto nord direzione est e una quarta nord firmato il capitano flint tutto qui ma per breve che fosse e a me incomprensibile riempì di gioia il cavaliere e il dottore l'insì disse il cavaliere pianterete su due piedi la vostra meschina clientela io domani parto per bristol entro tre settimane dico tre dico due dico dieci giorni avremo il miglior bastimento il fiorfiore delle ciurme inglesi hawkins ci seguirà come mozzo diventerai un mozzo coi fiocchi hawkins voi sarete il medico di bordo io l'ammiraglio prenderemo con noi redruth joyce hunter garantisco vento in poppa attraversata lampo manco l'ombra di una difficoltà a identificare il luogo denari a bizzeffe da nuotarci dentro da giocarceli a scopone per tutto il resto della nostra esistenza triloni disse il dottore verrò con voi e mi rendo garante della cosa e così pure jim e faremo onore all'impresa non c'è che una persona che mi dia da pensare e chi è costui gridò il cavaliere ditemi chi è quel cane voi rispose il dottore perché non vi riesce di tenere a freno la lingua non siamo i soli a conoscere quella carta ci sono quei tipacci che stanotte hanno assalito la locanda gente rotta tutto quegli altri rimasti a bordo del bastimento e altri ancora ho ragione di temere non lontano di qui tutti determinati fino all'ultimo ad acciuffare di riffa o di raffa quel denaro nessuno di noi dovrà restare solo finché non saremo in mare Jim ed io nel frattempo ci terremo collegati voi prendete Joyce e Hunter andando a Bristol e nessuno si lasci sfuggire una parola su quanto abbiamo scoperto Livsi replicò il cavaliere portate sempre la nota giusta voi sarò muto come una tomba Piero Baldini ha letto l'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson riduzione Giovanni Piccioni regia Adelchi Battista coordinamento Fabiana Carobolante il terzo anello chiocciolarai.it l'isola del tesoro l'isola del tesoro l'isola del tesoro